C'è spazio davanti a sé, Suárez, Luis Suárez, è arrivato il gol. C'è la prateria per andare, Messi, attenzione, ecco il gol. Ha finalizzato nel migliore dei modi, ma splendida giocata collettiva in contropiede. Può accorciare le distanze, rete, splendida rete. E' tutto solo, Leo Messi, ecco il gol. Neymar, e c'è il gol, palla in rete. Prova ad andare, palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, è arrivato il gol. Comunque non hanno voluto mollare. Se l'è bevuto, si è liberato dalla marca. Picchi! Straordinario stacco di testa. Portiere decisamente. Ecco il tiro, ottimo. Attenzione, prova! Gol buono per le statistiche, ma difficile che possa farvi rientrare in partita.